Dopo il periodo pandemico è ripresa l'attività del Comitato di Croce Rossa di Ponte Canavese? Abbiamo ripreso abitualmente dopo l'esperienza purtroppo difficile del Covid e subito è subentrata un'altra, quella del soccorso alla popolazione dell'Ucraina. Sul nostro territorio abbiamo alcuni profughi nel Comune di Ronco e in questo periodo iniziamo un'attività di supporto logistico per i trasporti e per le attività di visite o altre cose simili che servono per questi profughi. Avete già quindi iniziato l'aiuto ai profughi ucraini arrivati qua? Sì, siamo partiti ieri, abbiamo iniziato a accompagnare i primi profughi ucraini arrivati al centro vaccinale di Rivarolo. Questa mattina invece abbiamo accompagnato i piccoli bambini presso l'ospedale di Chivasso, anche loro per il primo vaccino che sono arrivati in Italia. Per questa cosa dobbiamo ringraziare la collaborazione del Comitato anche di Castellamonte che stiamo collaborando insieme e ringrazio il Presidente Paolo Garnerone e il Delegato all'area 3 Matteo Gallo che ci hanno prestato il mezzo per accompagnare questi signori a fare il vaccino. Una problematica che ha tanto discusso ultimamente che riguarda paesi montani come Ponte Locana è la guardia medica? Purtroppo sì, il discorso della guardia medica è un discorso molto difficile. In questo periodo abbiamo un unico medico per le due sedi di Ponte Locana e quindi abbiamo dei giorni scoperti a Ponte e dei giorni scoperti a Locana. Proprio per questo, per evitare che la popolazione arrivi presso la sede di Ponte o presso la sede di Locana, invitiamo tutti a fare il numero unico, il 116 117 che indirizza direttamente l'utente alla sede di guardia medica aperta in quel momento. Speriamo in un futuro immediato che questa soluzione trovi un riscontro e avere un medico di nuovo come prima nelle due postazioni presente H24 nei turni di apertura del servizio. Anche considerando il fatto che continua a essere chiuso il pronto soccorso di Quornier. Come Natale il Comitato di Croce Rossa anche a Pasqua aiuterà le famiglie con l'uovo solidale? Sì, anche quest'anno per Pasqua avremo queste uova solidali che il ricavato servirà appunto per finanziare le attività di aiuto alla popolazione in difficoltà. Alcune famiglie come già per Natale saranno consegnate dei buoni spesa o delle borse viveri per le famiglie che hanno un reddito basso o comunque hanno situazioni difficili e anche eventuali aiuti a dei profughi dell'Ucraina. Ecco questo è l'uovo solidale di quest'anno per Pasqua. Le uova solidali possono essere prenotate presso la sede di Ponte telefonando al numero 84593 e si possono ritirare qui presso la sede versando un contributo solidale per questa iniziativa. Grazie a tutti.